Sì ma non abituatevi a queste ranked che si stanno in fretta ragazzi L'hanno fatto così veloce solamente perché Perché la season è breve Quindi hanno fatto in modo che tutti potessero rankare velocemente Ma tornerà sicuramente a essere lento Come giusto che sia Questa comunque è una psicopatica a contestarmi così eh Devo stupida come idea Oddio l'ho scarso il silenziale Questa d'oro Buonissimo Yes So pretty Dove sta l'RPG per quello ho paura C'ho la mano destra completamente congelata Diobono Proprio freddissima ve lo giuro Penso che se vi tocco tipo la faccia con la mia mano destra in questo momento vi Diobono vi si strizza il buco del culo Non sto scherzando Davvero ti sei aperta Eh sì Alessio praticamente C'erano i miei fan che volevano una live sexy E praticamente ho cominciato a mettermi le dita All'interno delle mie narici Perché volevano vedere le caccole Ci sono così tanti citati che mi hanno segnalato in massa E mi hanno reportato E mi hanno bannata per nudità E stessa con adulte E poi là c'hanno masservi di assurdi Ma per quello dico che Per quello dico che è una piattaforma di merda Fa schifo zì Ma sai quante volte vanno bannata per la stessa motivazione Almeno 6-7 volte minimo 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 eh Non senza esagerare Giorgio l'hanno tipo bannata una cosa come 4 volte Perché dicevano che Che lei era minorenne E quindi non poteva streamare Porco di Questa era rank campione ragazzi Cioè ha fatto tutto lui Io non ho fatto niente Ragazzi rank campione Come a me non ti ha preso con la buggy bomb Perché ho il bush Ah c'è lo spaz questo Ah vabbè dai Non posso buildare un c***o qua C'è diggi Ah ci sono morta ragazzi Frate Sarò anche morta Sarò anche morta Sarò anche morta di zona Ma te lo giuro Fai sboccare al c***o Letteralmente Guarda ci guarda che c'è morto sinceramente Con tutto che aveva lo spaz Ha preso un pisello enorme Come va Una m***a Sono agitata Questo fa le anni migliori del mio Gomma Pompa Oh mio dio la play Prendi il mattone Spacca questo Scendi 3x Fai un po' di boc***o Con lo scudino sotto la scala Ti fu la 50 di shield E vai for the clipping Ah ho capito Ah ho capito Ho capito Il pesce con il tattico Ha fatto 110 di obono C'è pure morto Ah ok Scusami Pushami pure vai Un attimo di tregua Just a f***ing second Ah non posso arrivare mica qua sopra A meno che non è John Lennon Dubito che possa arrivare una mattina del genere Cioè Chi c***o sei Manco Michael Jackson Se ora c'è qualcuno Che l'anda in questo posto Che letteralmente Non posso dire cosa sembra Io impazzisco Io ve lo giuro Io 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 esco fuori di testa Oddio Un rift Acci d'erbolina Non vedevo l'ora di trovarlo Zio pera Pushing C'è una cassa qua sotto no Qua ci sono i mini shield Lo so perché guardate Devi fare così Metti la palla per terra no Ci giampi di sopra Fai un 360 Prendi la palla Vedi Non devi neanche vedi Cioè Dette ragà Questo è il trucco per trovare i mini shield Nelle casse Prendi la palla La butti per terra Fai un salto Un 360 E poi hai trovato Hai trovato quello che ti serve Cioè nel chilling Capito Ah Ho capito Il brù aveva il tattico blu Lo scaroro silenziato La digola Uno shieldone Ah Ho compreso Molto bene Figurati Sono sneaky sneaky ragazzi Nessuno aspetterebbe di un cespuglio Dentro Fatal Il brù voleva scappare da Martì Yeeeey Ah ho capito Sono morta Quanto cazzo godo Te lo giuro Mamma mia se godo Cristo di Dio Così impari a fare tea party Strono Senza chiedere nemmeno il permesso Cioè sono minorenne E ti permetti di fare ste robe Ma tutto bene What the fuck are you doing my friend Allora due big Effettivamente Aspetta devo fare come i bambini Aspetta Allora molto bene ragazzi Abbiamo un chug chug E tre big Ovviamente tre big Sono assolutamente superiori Ma Il caccio lo dovrei lasciare ragazzi Secondo voi E portarmi il chug Oppure me lo tengo Mi tengo del caccio Ho fatto proprio un cazzo Onestamente Allora ragazzi Molto bene Questa partita promette molto benissimo Cosa può succedere Una ceca Orco 2 Mica Strizzato le chiappe Calma Ah Ho capito Il brù è un piromane Incredibile Non lo sapevo Che benessere Ah si facciamo due big Ok Metti in caso che Finisce qua la zona Comunque ho questo qua per l'hp Sborrificated Sborrificated Vedete che loot Dove andare a prendere Ah Stavo scherzando Devo fare la ragazza generosa E regalare qualcosa a qualcuno Cilla Buonasera Cosa mi offre Ah Ah Ho capito Ah Ho capito Sì 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 Effettivamente parlando Signori direi che qua Lasciamo il caccio E portiamo il coso Che dita Portiamo il lancia granate Secondo me Il lancia granate è up Siete d'accordo con me Ok Open il rift No se mai il rift non ci servono Facciamo solo il rampino Dai Ok Va bene Dai città Dai città Dai città Che culo di merda C'hai un culo sfondato Te lo giuro Te lo giuro Vedete Vedete che sono tutti così I bambini Guardate come Da quando siamo tornati Nella OG season Tutti quanti ballano Appena fanno una kill Ve lo giuro Sono tutti così No era in cadaria Non penso Anche se ho fatto Un bel po' di kill Allora no Non penso E invece ce l'abbiamo E invece ce l'abbiamo Signori We fucking have it Finalmente Stavo con 8 kill Dio buono Gg chat per favore Sì Sì Sì